Muoversi Meteo I venti ispireranno moderati orientali con locali rinforzi e con possibili raffiche nei temporali. Il mare si presenterà mosso, localmente molto mosso a largo. E chiudiamo con le temperature che aumenteranno leggermente nei valori minimi e diminuiranno lievemente in quelli massimi. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense. E con questo è tutto. Grazie per l'attenzione.